ARIETE ARIETE BILANCIA È tempo di sentimenti e relax. Forse sceglierai di dedicare del tempo a te e dopo il lavoro andrai in piscina o in una beauty spa. SCORPIONE I colpi bassi spesso arrivano quando meno te lo aspetti, da insospettabili pseudo-amici colleghi fidati. SAGGITARIO Incontrerai un lui o una lei cui non riuscirai a togliere gli occhi di dosso. Se sei single, agisci. Se non lo sei, pensa. CAPRICORNO Non ami esser dato per scontato e oggi difenderai la tua posizione e metterai qualche puntino sulle I, con successo. ACQUARIO Finalmente le risposte che aspettavi sono arrivate e da oggi forse puoi cominciare a pensare al domani con serenità e progettualità. PESCI Anche tu, così discreto e solitario, avrai bisogno di quell'amico di sempre che ti capisce anche senza parlare.